Buongiorno, stamattina mi trovate così e sono le 11 di mattina, stamattina me la so presa con comodo proprio, siamo rimasti nel letto io e lui perché non ce la facciamo più, sai io ero finita, perché comunque la notte si dorme poco, vero? Si dorme poco la notte, perché lui chiama e quindi niente, non fate caso ai capelli perché comunque anche quelli oggi subiranno un cambiamento, ti devo lavare, questo è il succo, devo lavare i capelli assolutamente, devo trovare un momento in cui lui praticamente me lo tiene Samuele per poter andare a fare la doccia e lavare i capelli, per forza. E niente, oggi è venerdì, finisce la settimana finalmente, finisce la settimana, non vedevo l'ora e speriamo che il fine settimana non sia freddissimo, in maniera tale che almeno una passeggiata con sapore a creatura la potremo andare a fare, perché se no manco una passeggiata possiamo andare a fare. E niente ragazzi, a dopo. Allora, adesso abbiamo preso la palestrina, perché praticamente c'ho solamente la cosa, come si chiama, l'altalena che gli piace tantissimo, e mi mancava la palestrina e quindi gli ho preso la palestrina. L'ho presa su Amazon, è arrivata adesso, adesso ce l'ho messo, però devo prendergli o una coperta o comunque qualcosa da metterci sotto e sopra, perché casa raga è freddissimo, non so dalle parti vostre ma adesso a morire congelata. Comunque noi abbiamo pranzato, non vi ho fatto vedere niente, perché la mia intenzione era di fare gli spaghetti con friarielli e salsiccia, purtroppo la salsiccia non mi si è scongelata in tempo, quindi abbiamo fatto solamente gli spaghetti aglio e aglio e una spinacina al volo. E friarielli e salsiccia li facciamo a cena però, quindi ve lo farò vedere sicuramente a cena, devo vedere se farlo con la pasta sfoglia, quindi tipo a torta rustica, oppure fare solamente proprio salsiccia e friarielli, così, senza niente. Qui il casino si continua, qui eccolo qua, questo casino è il casino di Samuele che non mette mai a posto le sue cose, queste qua. Va bene, niente, oggi è venerdì, Aurora esce, Alessandro qui, sta badando ad Adriano, gli dite per favore di tagliarsi i capelli? No, non c'è, pare un pandoro, pare, sembra un pandoro. No, io non ti taglio. No, non ti taglio, continua così, che se è bello, c'è pure la frangia, guarda, la frangetta ti è venuta. Va bene ma andiamo di là che c'è uomini e donne e nel frattempo gioco con Adriano un pochino. Cioè si è zittato guardando uomini e donne, cioè io non ho parole, non ho parole. Io ho una domanda, ma non lui, ma lei, lei, ma regà, mi dite una cosa, ma lei, cioè non gli direreste una sedia, cioè io non so così macchiavellica come lei. Ma questa c'ha veramente qualche problema, cioè allora io apprezzo tantissimo Alessio l'altro, cioè non Alessio questo, Alessio il rosso, ma perché gliel'ha detto subito, cioè ha fatto come ha fatto il mio marito con me, mi ha detto subito guarda che io sono così, quindi se ti va bene bene, se no quella la porta e cercatene in altro e io so dell'opinione che se io devo stare con una persona accetto tutto, pregi e difetti di quella persona e non tento di cambiarla, che lei gli dica di non andare a ballare, di non vedere le amiche, gli amici, eccetera, eccetera, ma perché deve essere interessante, cioè ma che due scatoline ragazzi, ma che se campa così, cioè io veramente, cioè so femmina, so donna, cioè io, ma non mi sarebbe mai venuto nell'anticamera del cervello di dire a un ragazzo che sto a conoscere in una nabba là, cioè ma che cazzo so io per dittelo una cosa del genere, assolutamente no, infatti non la sopporto, cioè non la sopporto, è proprio macchiavellica, è macchiavellica, cioè è una cosa allucinante, allucinante, e invece no, invece a me piace tantissimo lui perché lui l'ha messo subito in chiaro, guarda che io non cambierò perché mo' dici te, cioè quindi non è che non vado a ballare perché mo' dici te, ma non esiste proprio, ma a me pare pure una logica normale nella vita di tutti quanti, cioè non è che se io ti dico guarda non devi uscire con quello, però tu non ci devi uscire perché se no io faccio il putiferio, cioè tu accetti il fatto che io esco con una persona o che vada a ballare, cioè se ti piaccio, ti piaccio pure per questo, comunque in tutto questo il figlio si è addormentato ragazzi, guardate, cioè sta a dormire, sta a dormire, se è addormentato mentre questi strillavano, cioè veramente bellissimo, fantastico, comunque devo modificare un attimino sta cosa perché ci devo mettere sotto assolutamente un qualcosa che fa spessore perché c'è il tappetino ma è un pochino troppo basso, quindi ci devo mettere dentro una coperta o comunque devo trovare tipo un cuscinone gigante tondo e poi ce lo metto dentro, però gli piace, ci sta, ci sta, gli sto dando tanta tanta fiducia, gli sto dando tanta tanta fiducia perché gli sto praticamente facendo spuntare i capelli, eccole, questo è quello che taglierò, esatto, cioè veramente tanta tanta fiducia, tanta tanta, oddio mio, o sa, se è così vero, pari sa, pari, ti prego, pari che così quando ce l'arricci, che così quando ce l'arricci non si vede, oddio grazie, che sta a fare, oddio, io sento taglia malissimo, non male, mamma, che sta a fa' mi fa tagliare le giuffe, le giuffe, le giuffe, oddio, che stai facendo? ma io li, ti sento di tagliare unomodo, pazzita, ho già fatto, oddio, oddio mio, che stai facendo? oh mamma guarda guarda il pantano ottio non lo so sento meno come avete perché? no ma non sono pallita non sono palli non sono palli stai tranquilla che devi mettere la mia altezza non lo so allora ma qui tu ti devi mettere alla altezza dei capelli non sono palli lo sento che non sono palli lo sento che non sono palli anzi che ha capelli ricci non è il momento Alessandro e non mi va dammela a me la brioche la brioche ma chi me l'ha detto che fa questa cosa ma non si fa così ce l'ho chiamato di capelli ce l'ho chiamato di capelli con le altre per vedere se va bene oh non è possibile che te bello oh c'è una mia benvenida maledetta che non va d'accordo con questa cosa qua devo fare? allora ecco qua questo è il risultato finale ehm dietro non mi riesco a vedere però sento che arrivano qua quindi va bene questi sotto sono un po' più lunghetti ma io me lo immaginavo perché ce l'ho comunque un po' scalati non ce l'ho a tutti pari quindi questi sopra sono più corti dove sto inquadrando questi sopra sono più corti ma erano già corti prima a me importa che non ci siano più quei capelli bruttissimi che avevo prima e devo dire che dai sì con i capelli ricci con i capelli ricci diciamo che non si vede tanto squilibrio diciamo dai stanno bene è stato bravo vi faccio vedere anche i prodotti che ho usato allora quando erano ancora umidi ho messo questo che è di pomelo ed è un insieme di oli e vitamina E per i capelli danneggiati questa è la linea che ho comprato ultimamente che è la linea rosa che è per i capelli danneggiati poi per fare la piega piega io raga non faccio la piega comunque ho usato questo che è praticamente un gel al cocco all'olio di cocco e l'ho preso su Amazon questo è un bel barattolone da 426 ml e io l'ho praticamente usato più di mezzo e mi piace perché non è particolarmente pesante sul capello lo lascia comunque morbido e poi per finire dopo che ho asciugato il tutto ho messo quest'olio di cocco e burro di cacao per i capelli ribelli e crespi dell'ultradolce di Garnier mi serviva un olio diciamo per la chiusura e ho messo questo qui ci sono vedete un po' di robe random ora lasciate perdere questa che ci è servita ultimamente e questo che mi è servito per il seno quando ancora Adriano mi si attaccava però tutto il resto sono tutti i prodotti che io utilizzo una volta che ho fatto la doncia questa è una crema per la cellulite questo è un olio per le smagliature che questi due me l'ha dati la mia estetista poi un latte per il corpo la spuma un olio per il corpo questo che sto cercando disperatamente di terminare perché non mi piace che è praticamente uno spray sempre di pomelo al sale e aloe che li secca troppo i capelli non mi piace e poi questa che è una maschera per capelli colorati sempre di pomelo che tengo qui perché ogni tanto faccio anche la maschera qui pettini random e spazzola e questo è quanto sì sì mi piacciono mi piacciono mi piacciono proprio tanto sì aspettate non so come farveli vedere perché io sono un po' incapace quando devo fare queste riprese così oh ecco qua che dite? dai sì 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 ci sta ci sta qui 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 è qui mi piacciono mi piacciono mi piacciono mi piacciono mi piacciono